In questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiane. Nio Talk Show ha tre ospiti fissi in studio, tutti e tre sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il quarto ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Mio Talk Show dove si dibatteranno tanti temi d'attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore, andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Buonasera, io sono la signora Pina. Buonasera, io sono la signora Pina. Ciao, io sono il duro, non te l'ho vista. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Talk Show. In questa puntata parleremo di cambiamento climatico. Per discutere di cambiamento climatico occorrerebbe un climatologo, un fisico, uno scenografo, un biologo, un economista, un demografo, un militare. Ma noi non abbiamo niente di tutto questo, solo ospiti incompetenti. Non è infatti nostra intenzione di creare allarmismo. Quindi ci limiteremo a diffondere propaganda politica, riempiendo di merda e di fuffa i nostri telespettatori. Il tema di questa puntata è il cambiamento climatico. Diamo subito la parola alla signora Pina per sapere cosa ne pensa. Sì, allora, secondo me il cambiamento climatico esiste. Il tempo cambia in primavera, in estate, in autunno ed anche in inverno. Ecco. La nostra opinionista, la signora Pina, ritiene che il cambiamento climatico esista. Ma forse la signora Pina non sa che esiste un appello di 500 scienziati che dicono che l'effetto Serra è una fake news. Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico Ezzel dal pianeta Marte. Ezzel dal pianeta Marte. Fred, buio, blocco, buio e piaccio. Drogford, climate change is bullshit. Mio fratello Jack dal Texas dice che la storia del cambiamento climatico è una stronzata Perché le scurreggi di cane puzzano di più delle merde di mucca In effetti con il letame delle mucche mescolando A paglia ci si fa del concime Mentre le merde di cane puzzano davvero tanto Chi di noi non ha mai avuto la sfortuna di pestare una merda di cane? Io ho letto dalla manicure che l'orso Yogi sta per rimanere senza casa Perché il polo si sta scongelando E l'orso Yogi non è un pesce Non può notare sempre Insomma bisogna cogliere gli orci Yogi bianchi E trasferirli tutti nell'izio Povere bestie Se no affogano Polar beer Years In the South Pole They don't need a new home Ciao Io sono Arturo Non ti ho visto Ecco ringraziamo Arturo e il nostro sponsor E mio fratello Jack dal Texas diceva che appunto L'orso bianco vive al polo sud e non al polo nord E quindi di conseguenza non ha bisogno di migrare e di avere una nuova casa C'ho il polpettone sul fuoco Poi bisogna che vi lasci perché devo andare a prendere mia figlia a scuola con il SUV Ciao Ok la trasmissione è finita Gli ospiti se ne sono andati tutti In breve possiamo dire che il cambiamento climatico non esiste E quelli che dicono che c'è il cambiamento climatico sono dei drogati Un saluto Ciao Nella prossima puntata parleremo della fine del petrolio Ciao Ciao